Ecco Tonali che recupera palla alla smista verso Krunic, intercettato da Betancourt che apre verso Dybala, chiuso però da Teo Hernandez che cambia gioco verso Messias, anticipato da Chiellini che la dà immediatamente a Locatelli, fermato da Brandiaz che però perde palla. La partita è bloccatissima, vero? Cesni verso Rugani, McKennie fermato da Tonali, Krunic dietro a Mignan, che palla di Tonali a Messias. Rugani, Chiellini, Cesni. Ma quanto manca? E ancora ci vuole, mamma mia. Tonali, Quadrado. Comunque quest'anno Barbieri è più severo rispetto ad altri anni. Ma scusa, ti stai vedendo? Tonali. No, mi sto recuperando l'ultima puntata di Masterchef. E alla partita? Ah, sì. Tonali, Bentancourt. Comunque pressure test è bellissimo. Krunic, Tonali. Senti, stavo chattando con Mimmo, mi hai chiesto di domani sera ci andiamo a mangiare una pizza insieme, eh? Va bene. Locatelli. Che dici? Va bene, va bene. Di Bala. Ah, mi sta chiamando. Senti, mi copri un attimo. Che significato copri? Io non sono in grado. Basta che dici il nome di chi è il pallone, eh? No, dai. Di Bala. Mimmo. Sì. No, non mi disturbi, tranquillo. Dove vai? No, mi fa piacere. Calulu. Per me va benissimo. Tonali. Intanto potremmo andare. Di Bala. Alla pizzeria da pronto. E lì è bene. Mecchene. Non ci puoi chiamare dopo a Mimmo. Oh, Rada. Va bene. Dai, restiamo così. Devo chiudere. Va bene? Ciao, 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 ciao. Grazie, eh. Grazie. Tonali. L'ho confermato per domani sera alle 21, eh. Bentancur. Castieco. Ma anche sta giocando Castieco. Ma tanto chi se ne accorge. Tonali.